Il caro Energia mette in ginocchio i ristoranti italiani. L'agriturismo al campagnino a Pessina Cremonese ha visto le bollette quadruplicarsi, fino al 400% rispetto all'anno precedente. Elisa Mignani, titolare dell'agriturismo, sottolinea la forte preoccupazione. Con le bollette che sono arrivate ultimamente da quest'estate, diciamo che ci siamo un po' trovati con le spalle al muro, perché ora stiamo lavorando per ripagare le spese. La bolletta dell'anno scorso, di luglio-agosto, era di 1.500 euro, ora stiamo parlando invece di 7.000 euro. L'agriturismo ha dovuto variare i prezzi di qualche euro per poter rientrare nelle spese. Gli aumenti applicati al listino prezzi del ristorante sono legati anche al rincaro delle materie prime. Abbiamo leggermente aumentato, ma di poco, anche perché comunque non possiamo rincarare tutto nelle spese dei clienti, ma di 1 euro o 2 abbiamo dovuto rincarare alcuni piatti del nostro agriturismo e anche alcuni prodotti che proponiamo ai mercati di Campania Amica abbiamo dovuto aumentare di qualche centesimo il prezzo, anche perché oltre alle bollette è aumentato anche il prezzo delle materie prime, per noi il burro, e quindi abbiamo dovuto per forza aumentare leggermente i prezzi.